Vi porto con me a vedere la squadra più in forma della Serie A E sto parlando del Grande Bologna Lo squadrone che tremare il mondo fa Beh, sono stato al Dallara per Bologna-Atalanta E una volta arrivato nel mio posto mi sono goduto lo spettacolo E ragazzi, che dire, la visuale era davvero perfetta, si vedeva benissimo Il primo tempo è stato abbastanza tranquillo Ma mancava una cosa che solitamente faccio sempre Mangiare E così, a fine primo tempo, direzione hospitality Purtroppo non ci sono potuto passare prima della partita a causa di ritardi del treno E così nei 15 minuti di pausa ho dovuto mangiare al volo Ma per fortuna sono riuscito anche a fare il bis perché avevo davvero tanta fame Però c'era un secondo tempo da vedere E me lo sono goduto ancora di più con un piccolo regalino da parte del Bologna Che ringrazio, ovvero la maglietta di Alexis e le Makers Alla fine il Bologna è riuscito a segnare e trovare la vittoria Anche se poteva segnare qualcun altro visto che Ferguson ce l'avevo contro il fantacalcio Vabbè, nonostante questo è stata una splendida giornata E mi sono chiesto una cosa Sono più belli Tiago Motta e il suo Bologna O questo tramonto rosso-blu sopra il cielo del Dallara? Grazie Grazie Grazie